Guarda bene questa immagine, guarda tutta quella gente. È incapace di una rivoluzione, è troppo umiliata, ha troppa paura, troppo frustrata. Ma fra dieci anni, quelli che ora hanno dieci anni ne avranno venti, quelli che ne hanno quindici ne avranno venticinque. All'odio è ereditato dai genitori, aggiungeranno il loro idealismo e la loro impazienza. Si farà avanti qualcuno e trasformerà in parole i loro sentimenti inespressi. Qualcuno prometterà loro un futuro, qualcuno avanzerà delle richieste, qualcuno parlerà loro di grandezza e di sacrificio. I giovani agli inesperti offriranno il loro coraggio e la loro fede, agli stanchi e agli insicuri. E allora ci sarà la rivoluzione. E il nostro mondo verrà abbattuto nel sangue e nel fuoco. Fra dieci anni, non di più, quella gente crescerà una nuova società, che non avrà uguali nella storia del mondo. Grazie. Grazie.